Popolo di internet, ben ritrovati a un nuovo video, oppure benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti. Io sono uomo che sapeva troppo, per gli amici uomo, e sono qua per cominciare questo mini calendario dell'avvento, questo bizzarro calendario dell'avvento, perché parte oggi, 22 dicembre 2023, finirà il 30 dicembre 2023, nove giorni che scavalcano il Natale, poi arrivano a fine anno. Calendario dell'avvento che ci ha regalato, così, Marvel Studios, in realtà regalato, insomma, bisogna pagare l'abbonamento di Disney+, perché da oggi, 22 dicembre 2023, per ogni giorno, un episodio al giorno, verranno rilasciati gli episodi della serie What If, seconda stagione, serie animata che racconta le possibilità del multiverso Marvel, quindi mondi paralleli, altre realtà, altre timeline, dove le cose sono andate lievemente diverse, oppure parecchio diverse. In questo caso, nel primo episodio, che voglio scartare quasi come veramente una casellina del calendario dell'avvento, quindi via, vedete, ho coperto le altre, anche se poi Marvel, gli episodi, li aveva già lasciati intravedere tutti, insomma, li aveva già mostrati tutti al pubblico, quindi i titoli li sappiamo tutti, ho voluto fare questo giochino del finto calendario dell'avvento. Primo episodio, e se Nebula si fosse unita alla Nova Corps? La recensione chiacchierata è spoiler, ve lo dico, ma, insomma, sono episodi molto brevi, una mezz'oretta, quindi, insomma, non c'è neanche tantissimo da dire, e credo che, se siete qua, lo avrete già visto, quindi vi invito a scappare, se ancora non l'avete fatto. L'episodio, diciamo, poteva intitolarsi, forse, e se Nebula fosse diventata la nuova Yondu, in qualche modo, perché l'episodio si apre con la morte di Yondu, in questo universo dove Thanos non ha mai ottenuto il potere del suo esercito e poi delle gemme dell'infinito, perché è stato tradito da Ronan, l'accusatore, e ciò ha portato alla morte di Thanos, alla morte di Gamora, ha lasciato intendere che sia morta, e Nebula, quasi morta, vagava nello spazio come un rottame, ma è stata trovata da Nova Prime, che l'ha reclutata, appunto, nei Nova Corps. Ma in realtà è solo l'Incipit, perché questo poi porta Ronan, dopo aver tradito Thanos, ad attaccare anche nuova Xandar, e, insomma, c'è questa forma di cautela per evitare ulteriori attacchi, questa forma di isolamento che viene generata, appunto, dai Nova Corps, con questo scudo che isola completamente Xandar. Xandar, quindi, diventa una sorta di scenario alla Blade Runner, le ispirazioni sono palesi, chiaramente non c'è più la luce per via dello scudo, il tempo è praticamente sempre nuvoloso, tendente anzi alla pioggia, e, insomma, ci sono queste auto volanti con i portelloni che si aprono veramente alla Blade Runner, usate dai Nova Corps per far rispettare la legge, però l'isolamento, come dice la stessa Nebula narratrice, ha portato ognuno a tirare fuori il lato peggiore di se stesso. Quindi, in questa atmosfera un po' noir, cyberpunk, si muovono le avventure di questa Nebula che indaga, indaga la morte di Yondu, perché Yondu viene trovato morto, lei e Yondu erano anche grandi amici, e c'è un mistero da risolvere, perché dietro l'uccisione di Yondu, in realtà, c'è molto di più, c'è il fatto di voler in qualche modo togliere lo scudo di Xandar, e, insomma, ci saranno una serie di tradimenti, appunto, ripeto, è una recensione spoiler, quindi l'avrete già vista, alla fine si scopre che è stata proprio Nova Prime a fare tutto ciò, in maniera, devo dire, un pochino gratuita. Allora, la trama è mediamente interessante, il problema della prima stagione di What If, e sono abbastanza convinto che lo sarà anche di questa, è quella di volerci raccontare delle avventure di realtà parallele, ma, secondo me, senza sconvolgere davvero troppo la timeline dell'MCU. Secondo me dovrebbero giocare molto di più su questa cosa, sto parlando per ipotesi, perché poi non ho ancora visto tutta questa seconda stagione, ma mi baso sulla prima. Dovrebbero fare delle cose veramente diverse e sconvolgenti, ecco, nella prima stagione forse l'uccisione di tutti gli Avengers, Capitan Carter che diventa lei Capitana America, tra virgolette, non Steve Rogers, quelle erano molto interessanti, però generalmente altre non hanno mai davvero cambiato troppo l'MCU. Mi piacerebbe se andasse a scavare, veramente cercando delle cose molto, molto strane, che ne so, e se durante la Civil War uno dei due avesse ucciso per sbaglio, quindi Tony, magari Cap, Cap Tony, e quindi sarebbe cambiato veramente tutto, insomma, se gli Avengers non ci fossero stati con l'attacco di Thanos, cioè, delle cose un po' più esagerate, mettiamo così, ma vediamo cosa ci daranno le prossime puntate, perché questa appunto ci dà questa diversità di universo, che per carità non ha avuto Thanos, non ha avuto le gemme dell'infinito, però per il resto è quello che praticamente conosciamo. C'è tra l'altro Howard il Papero che compare, che ha il suo ruolo più grande mai avuto per adesso nell'MCU, con il suo bar, con la sua licenza per alcolici, alla quale tiene tanto, e di fatto, dicevo, il titolo dovrebbe essere, e se Nebula fosse diventata la nuova Yondu, perché è quello che la ragazza cyborg poi fa, prende la freccia di Yondu, si veste addirittura come lui, si mette anche la lama, il cappello lama che Yondu aveva infilato in testa, lei può farlo, perché di fatto è una cyborg che può modificarsi, modificarsi, e crea questa piccola squadra di sovversivi, tra cui c'è anche Korg, doppiato in originale da Taika Waititi, perché gli attori originali, se possono, tornano sempre a doppiare se stessi, nei progetti animati, tranne se sono proprio attori enormi, con compensi giganteschi, e un sacco di impegni, e magari anche poca voglia di prestarsi al doppiaggio, per progetti, diciamo, più piccoli, quali sono, quelli tipo What If, mi pare ad esempio che nella prima stagione, Robert Downey Jr. non doppiasse se stesso, e anche Tom Holland credo non fosse tornato, insomma, quelli che hanno i casce grossi, le vere superstar, un pochino snobbano i progetti più piccoli, legati al doppiaggio, a loro la continuity, anche vocale, non interessa, insomma, cerchiamo di capirla questa cosa, è lavoro, però ecco, Waititi è tornato a fare Korg, e credo che anche Karen Gillen sia nebula, in originale, ora hanno stato a controllare tutte le voci, e vedendo spesso l'MCU in italiano, quando ho fatto il confronto italiano-inglese, non ho ben in testa la voce di Nebula, la puntata poi l'ho comunque vista in italiano, perché io tutto l'MCU lo guardo in italiano, mi piace, anche perché è così che arriva al cinema, e quindi è così che è giusto, io credo si debba vederlo anche per parlarne, visto che la maggior parte delle volte, vedendolo al cinema, lo vediamo in italiano, e lo vedete in italiano, per lo meno la prima volta. La puntata comunque è molto carina, con queste vibes alla Blade Runner, l'animazione non è il massimo, io ho questa tecnica un po' plasticosa, un po' legnosa, veramente da videogame, nemmeno con un budget altissimo, non mi attira più di tanto, è perfetta per dei frame, se fermi l'immagine e fai delle foto, tra virgolette, di alcuni momenti, rende molto bene animata, non tantissimo, preferisco le animazioni molto più fluide, molto più, tra virgolette, disegnate a mano, ma anche in 3D in realtà, però che devono avere una certa fluidità, senza toccare magari le vette, di animazione, di cose come Spider-Man Across the Spider-Verse, però non lo so, non lo so, non è mai uno stile che mi convince al 100%, però c'è da dire che a livello di atmosfera, di filtri, di colori, è tutto gestito molto bene, e di fatto è comunque un'animazione gradevole, avrei preferito magari qualcosa di più ispirato, però capisco che si voglia andare a ricercare un look, anche quasi realistico, per mostrare al pubblico più generalista, possibile che quelli che stiamo vedendo, sono in effetti gli attori dell'MCU, quella è la nebula che abbiamo visto anche sul grande schermo, la puntata finisce tutta abbastanza taralucevino, devo dire anche in maniera piuttosto prevedibile, però è intrigante, è intrigante anche se ribadisco, il tradimento effettuato, mi sembra abbastanza gratuito, più interessante è quello di Yor Rog, perché c'è anche lui che viene cercato come alleato, ma poi si scopre essere in realtà un traditore, c'è tutto un grande piano, che mirava a far trovare a nebula i progetti per lo scudo, per disattivarlo, e ripeto, un po' gratuito perché non è che vengono fornite grandi motivazioni, per il tradimento di Nova Prime, che mi sembra uscire un po' improvvisamente, perché farlo dopo tutto questo tempo, perché non farlo prima, è veramente un po' gratuito, ma del resto tutta What If, anche questa seconda stagione, probabilmente sarà un po' gratuita, nel senso che i What If nascono sempre per divertirsi con il multiverso, e non sempre le motivazioni o le trame che ci raccontano sono così elaborate, è veramente un grosso gioco, un grosso gioco che tra l'altro dai trailer, a me sembrava quasi che l'osservatore, le storie questa volta le raccontasse a qualcuno, tipo Capitan Carter, quando le mostrano a tutto il multiverso, non è così, in realtà è molto generico, non compare neanche a schermo in questo episodio, a meno che, poi nell'ultimo episodio, non scopriamo che stava raccontando tutte queste storie, la sua squadra di Avengers multiversali, e magari proprio nell'ultima puntata, la squadra dovrà tornare ad agire, lo vedremo, lo vedremo perché vi ricordo che, la prima stagione alla fine, aveva una sorta di mini trama orizzontale, perché dopo tutte le storie raccontate, una di queste veniva notata dall'osservatore, e partiva lo scontro con Ultron, e poi la formazione della squadra. Sul canale trovate anche le recensioni della prima stagione, facevo due episodi a puntata, insomma a recensione, quindi anche tre forse addirittura in una volta, quindi insomma cercatevi, se volete sapere un po' le mie opinioni d'epoca, puntata divertente, puntata divertente, sono curioso di vedere dove ci porterà l'osservatore nella prossima puntata, lo scopriremo assieme, arriva a disco, i titoli già li sappiamo, ma credo non li guarderò nemmeno più, perché non me le ricordo a memoria, quindi forse mi lascerò anche un po' sorprendere. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa seconda stagione di What If per adesso, se vi è piaciuto questo primo episodio, se vi è piaciuto lo spunto, cose che non vi sono piaciute, vi sono piaciute domande, magari passaggi di trama che non avete capito, anche se appunto è tutto abbastanza normale, abbastanza lineare, fatemi sapere appunto le vostre opinioni nei commenti, voglio chiacchierarne, e io vi invito innanzitutto a iscrivervi al mio canale Twitch, per fare un sacco di live con voi, chiacchierare, rispondere alle vostre domande, insomma venite a seguirmi anche su Twitch, qua sotto in descrizione del video, trovate tutti i link utili a supportare il mio canale, il mio canale Twitch, i miei social tipo Instagram, un paio di negozi con cui collaboro, uno che tra l'altro vende felpe e magliette nerd bellissime, cioè Nerdot, e Inside Collectors, che invece è una fumetteria dove trovate fumetti, Funko Pop, statuine, carte, insomma tutto quello che volete, quello che non trovate, mandate una mail, ve lo trovano sicuramente se non è uscito fuori catalogo, e insomma in entrambi questi store, se mettete il codice sconto UOMO, tutto maiuscolo, avete un sacco di sconti, e aiutate anche il canale, quindi mi raccomando andate sempre qua in descrizione, a leggere tutte le informazioni, per trovarmi anche in altri lead, tipo appunto Twitch, dove faccio dirette quasi tutte le sere, e è molto divertente farle, se siete con me in chat, a chiacchierare. Ribadisco, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, e vediamo da qua a fine anno, dove ci porterà il multiverso Marvel, con questo strano calendario dell'avvento, che è What If? stagione 2. Noi ci vediamo a un prossimo video, e alla prossima. Ciao!